un altro video massaggi questa volta abbiamo una schiena diversa come vedete anche solo il tatuaggio oggi faremo un po' di back scratching quindi un po' di grattini con le unghie poi un po' di grattini con le grattaschiena in questo modo, mi piace molto quando si va verso il collo anche così poi, visto che ci sono già i segni dell'abbronzatura andiamo a mettere un pochino di cremetato e poi ovviamente andiamo a fare un po' di brushing in questo tipo ventaglio super morbido che secondo me è perfetto quindi io direi che possiamo cominciare e cominciamo con un semplice micro massaggio anche verso il collo ti sto tagliando un po' di pelle come niente anch'io, vedete? anch'io sento a fondatura e dopo farò anche un pochino di tracing qui sopra perché è un tatuaggio stupendo e ovviamente andremo tutto a ricalcarlo non posso non approfittarne lo vedrete ma scritto puntare qui e poi anche delle farfalle qui sotto non lo vedete partiamo con proprio applicando pochissima pressione qui e qui scendiamo qui e poi scendiamo mi piace tantissimo anche seguire la colonna vertebrale prendiamo il primo pennello e partiamo dall'alto e andiamo lentamente a una spalla lentamente lungo un'altra ti vedo in primitivo e andiamo andiamo e e e lungo un'altra su e e e e e non sto applicando ad una pressione in modo che sia un mezzo massaggio un mezzo solidichino rilassante e così prendiamo un arcollo mi rifaccio mi rifaccio la stessa cosa ok andiamo dall'altra spalla un'altra 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 E' un'altra cosa che non è? Fai che ora è in mezzo. All'altra parte E adesso vediamo se ora ne metterò un po' di creme qui sopra Guarda Adesso prendo questa crema che è al tè verde, creme tipo di luce Che ha un odore anche molto bello ed è abbastanza corposa, non troppo ma neanche troppo di quello E partiamo con un pochino e poi nel caso ne aggiungiamo Tutto le ultime pelle E comincio a spalmare C'è un amore tonto di più All'altra parte All'altra parte All'altra parte